stessa roba fatti da parte c'è il telefono per il sito e la barba rispondono e rispondono per la serie il pomeriggio a casa quando gioco con me è brutto e salve buonasera e benvenuto sul radio RGM abbiamo scelto lei per fare un gioco con noi a disposizione ci sono 1000 euro con chi ho l'onore di parlare? con Diego e senti Diego ho l'onore di parlare con il mio collega Mr. Nuff allora buonasera Diego vuole giocare con noi? si ma no è facilissimo il gioco non vi preoccupate ci sono in palio 1000 euro io vi dico il nome di un cantante voi dovete dirmi il nome di 3 canzoni per esempio io vi dico Adriano Celentano voi mi dite per esempio Azzurro una carezza in un pugno la coppia più bella del mondo avete capito? si vi dico un cantante allora vediamo qui cosa c'è in lista mi dica 3 canzoni di Laura Pausini è stato il più utile si poi perfetto bravo si poi bravo Diego vai ancora 20 secondi a disposizione allora così mi dico da guardare eh c'ho questo in lista mi dispiace e poi vinco 1000 euro e se ti ricordate tu? sì 60.000 tutte e 3 vincete 1000 euro 1000 euro? eh 1000 euro Diego a termine della sirena mi deve dire tutte e 3 le canzoni vero eh una ce l'ha detta ok allora quindi Laura Pausini ha fatto anche la visione di Spagnolo e quindi vabbè me la diamo per buona eh dobbiamo tornare un'altra questa è già la Pausini ha fatto dico mi dispiace il tempo è scaduto questo ce l'ha detto ma da cazzo eh che sta facendo c'è riscolti dico dico va bene dico comunque lei ha vinto qualcosa sì ti ho vinto e con le cazze ahah ahah